L'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo USR si occuperà di gestire la ricostruzione delle case popolari di Teramo, un processo bloccato a causa della mancanza di personale e difficoltà burocratiche dell'Ater. Vincenzo Rivera, direttore dell'USR, ha spiegato che l'Ater ha perso vari responsabili di progetto e non è più in grado di proseguire per questo motivo. L'USR prenderà in carico circa 15 edifici con l'obiettivo di completare i progetti entro tre mesi e avviare i lavori entro marzo, questo nonostante alcune difficoltà tecniche. Sempre sul fronte della ricostruzione è iniziato il trasloco della prefettura di Teramo nell'edificio dell'ex consorso agrario in Viale Mazzini per i tanto attesi lavori di ricostruzione sismica. Sembrerebbe, ovviamente ci sono tutti gli scongiuri del caso, ma il complicatissimo iter burocratico amministrativo contabile sembra giunto alla fine. Quindi l'USR ha compiuto, ha concluso e ora cominciamo con le operazioni altrettanto complesse di un vero e proprio trasferimento di un intero ufficio. Lo storico palazzo di Corso San Giorgio è diventato in parte inagibile con il terremoto del 2016 e sarà sottoposto a interventi di riparazione e consolidamento. La ricostruzione non è solo una questione che riguarda i fabbricati, ma anche la strategia di rivitalizzazione sociale ed economica che ci consente di poter dire che via via che manteniamo l'attenzione sulle attività economiche, sui presidi, che riguarda i servizi, onoriamo un impegno che, ripeto, non è solo di Calcestuzzo e Malta, ma va ben oltre. La tempistica dei lavori stimate in tre anni è con un contributo totale di 11 milioni e 220 mila euro. È una delle opere più importanti per la città di Teramo e per il cratere sismico, la prefettura, che è un gaglio vitale poi nel sistema istituzionale. Nei giorni scorsi in cabina di regia guidata dal commissario Castelli abbiamo aggiunto altri 2 milioni e mezzo al finanziamento che due anni fa era stato previsto per la prefettura. Quindi al termine delle progettazioni e del computo più esatto del fabbisogno siamo arrivati a mettere insieme tutto quello che serve, tutta la provvista necessaria. Ora finalmente la prefettura può partire e lasceremo un segno importante della ricostruzione del centro storico della città in uno dei palazzi più simbolici.